Giornata piacentina per il capogruppo alla Camera del PD Dario Franceschini. In mattinata visita il point elettorale sul corso. Nel pomeriggio incontro con i lavoratori dell'Atlantis che rischiano di perdere il posto di lavoro. A monopolizzare la campagna elettorale in questi giorni è il caso MPS. Franceschini esclude coinvolgimenti e conseguenze negative per il PD. Gli italiani vogliono sapere che cosa faranno i diversi partiti, le diverse persone per risolvere i loro problemi nella prossima legislatura. Il resto è la campagna elettorale. In campagna elettorale si tritta tutto in modo più o meno elegante. Su Monte dei Paschi se ci sono delle responsabilità penali le individuirà e le colpirà la magistratura. Se ci sono delle responsabilità gestionali ci sono gli organi di vigilanza, ci sono le procedure interne alle società. Tutto qua, il resto è campagna elettorale. Contro di noi perché siamo i favoriti ma finisce lì. Infine una battuta sull'acquisto di Mario Balotelli da parte del Milan di Silvio Berlusconi. Beh, è tutto già visto mi pare, Berlusconi è sempre lui. La cosa davvero viene da chiedersi è come qualcuno possa ancora credergli. Sono sempre le stesse frasi, gli stessi slogan, gli stessi strumenti ogni volta in campagna elettorale o ha comprato o ha cercato di comprare un giocatore per il Milan. Tutto qua, ma penso che nessuno gli creda più. Ormai è già sperimentato.